Dimostrare che è possibile demolire e che non è possibile costruire delle cose brutte, credo che sia un fatto importante. È visibilmente soddisfatto il sindaco di Diamante Ernesto Magorno. La promessa di restituire al paese uno degli scorci più belli violentato da una costruzione abusiva è stata mantenuta. Dopo quattro anni la cittadinanza si riappropria dell'identità storica del vecchio borgo in una zona che rappresenta anche l'operosità della comunità diamantese. Lo stabile in questione ha ospitato una fabbrica negli anni 50, poi un ristorante e adesso è destinato a diventare una struttura alberghiera. Per il momento sarà ripristinato l'affaccio di Largo Savonarola mentre l'idea di una terrazza pubblica sarà da valutare in un secondo momento. Una vittoria per l'intera comunità che può ritrovare così fiducia nelle istituzioni e nella giustizia, ha detto Magorno, che ha poi parlato di alcuni fondi già stanziati dall'Aggiunta all'Oiero per il suo paese e per il Tirreno Cosentino, finiti nel dimenticatoio dopo la vittoria del centrodestra. Io in verità nel confronto di questa giunta, come tutti sanno, non avevo pregiudizi. Mi aspettavo però un'attenzione maggiore rispetto al Tirreno Cosentino. L'ho detto al Presidente dell'Aggiunta quando è venuto a Diamante, lo ripeto oggi. Il Tirreno Cosentino è la parte, da un punto di vista turistico, certamente più importante della Calabria. Registra durante l'estate, sia in termini assoluti che in proporzione rispetto al territorio, il maggior numero di turisti che arrivano nella nostra regione, io credo che meriterebbe di più.